Oracci bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con un giorno di ritardo. Ieri abbiamo avuto una giornata micidiale dove nell'arco di poche ore abbiamo avuto sia un Nintendo Direct sia uno State of Play. In questo video ricchissimo faremo riassuntone solo del Direct, perché c'è tantissimo di cui discutere e so che tanti di voi ne sono usciti delusi da questa presentazione e cercheremo di capire anche il perché. Prima di iniziare però due dovuti ringraziamenti. Il primo va a voi per il supporto. Ieri pomeriggio in live abbiamo battuto un nuovo record per il canale con oltre 1200 spettatori connessi simultaneamente e anche durante la presentazione Sony eravamo quasi 500 persone. Sono dei numeri per me assurdi a cui non mi abiterò mai. Il secondo ringraziamento va a Otogi Retro Games per sponsorizzare il canale. Se siete interessati al collezionismo e al retro gaming trovate tutti i link di Otogi in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Ma questo Direct è stata una delusione? Con delusione ovviamente scritto tutto in caps lock. Per me no, perché devo dire che anche a mente fredda ne sono rimasto parecchio soddisfatto, ma capisco il perché molti ne possano essere usciti delusi. Partiamo innanzitutto dalle conferme. Abbiamo avuto dei trailer di tutti i titoli di prossima uscita, tranne che di Mario Wonder, visto che al gioco è stato dedicato un intero Direct qualche settimana fa. Direi che questa è la strategia migliore e si evita così di infastidire il pubblico non direttamente interessato a un gioco in particolare, un po' come invece avvenne con Super Smash Bros. nel 2018. Il remake di Super Mario RPG si conferma come una riproposizione estremamente fedele all'originale, dove però il combat system è stato un po' svecchiato. Secondo me sarà interessante scoprire se la sceneggiatura avrà subito degli aggiustamenti per eliminare le parti un po' più spigolose della scrittura originale e soprattutto se nuovi contenuti post-game andranno a sostituire quelli della versione SNES. Ah, e poi speriamo abbiano anche inserito qualche miglioramento alla quality of life che ormai sono degli standard del genere. Mi dispiace dirlo, ma per me Detective Pikachu 2 è semplicemente inguardabile e per quanto possa essere un titolo intrigante per molti, trovo proprio assurdo riproporre un motore grafico del genere senza reali migliorie rispetto al primo capitolo uscito su 3DS. In mezzo c'è passata praticamente una generazione intera, ma come al solito le produzioni Pokémon rimangono indietro di anni rispetto a quello che è il mercato attuale e per me un prodotto del genere ha zero appeal. WarioWare Move It si conferma come la follia più totale, con buona pace di Everybody Want to Switch. Per la cronaca, trovo stra interessante il fatto che finalmente qualcuno inizia a sfruttare la telecamera infrarossi di Switch, una feature dei Joy-Con ignorata dal 99% degli sviluppatori, ma che secondo me aveva un gran potenziale. Per dire, adesso la usa pure Trombone Champ, il gioco che quasi mi faceva prendere un infarto visto che credevo si trattasse di un nuovo Wii Music. E sì, più o meno il senso è quello, solo che Wii Trombone si prende molto meno sul serio, annullando qualsiasi pretesa di realismo e avvicinandosi alla demenzialità di un WarioWare. Il segmento con funiculì funicolà e i piatti di pasta con tanto di bandiera italiana sullo sfondo mi ha fatto morire. Il remake di Luigi's Mansion 2 è ancora lontanissimo, è previsto per l'estate del prossimo anno. Proprio per questo non mi spiego il senso di proporre un progetto del genere sulla stessa piattaforma dove gira Luigi's Mansion 3. Sarebbe stato molto più apprezzato quantomeno un remake grafico prendendo gli asset del terzo episodio, pur lasciando intatto il gameplay, anche se la struttura a missioni dopo un po' secondo me si rivela ripetitiva ed eccessivamente anacquata. Se il remake del primo Luigi's Mansion aveva il suo senso all'interno della libreria del 3DS mentre era in chiusura il suo ciclo vitale, Luigi's Mansion 2 su Switch per me è proprio un'operazione anacronistica. Sono molto incuriosito da Princess Peach Showtime, questo in uscita il 22 marzo. L'idea mi stuzzica parecchio e fa molto piacere vedere che venga dato spazio anche a personaggi dell'universo di Mario che non sono l'idraulico baffuto e in questo credo che il film uscito al cinema abbia aiutato tanto nel convincere Nintendo a proporre esperimenti del genere. Detto questo, sono intrigato, sì, però ancora non sono convinto al 100%. A parte che nessuno mi toglie dalla testa la sensazione che si tratti di un progetto nato come un gioco di Kirby, quello che si è visto sembra più una concept demo che un gioco vero e proprio. Ci sono delle intuizioni molto carine, però fatico ancora a vederci un gioco a tutto tondo costruito sopra. Spero che il titolo riesca ad evolversi nel modo corretto. Per ora non ci resta che aspettare maggiori informazioni da parte di Nintendo. Anche gli LC hanno occupato dei segmenti molto importanti del Direct, anche se mi sarei aspettato una presenza più massiccia di questi contenuti aggiuntivi. La seconda parte del DLC di Splatoon ha ricevuto un trailer in apertura, ma anche in questo caso siamo lontanissimi dalla sua pubblicazione, prevista per un generico aprile 2024. Il DLC di Mario Kart ha ricevuto una breve presentazione dove non è stata svelata la data di pubblicazione, ma quantomeno abbiamo scoperto gli ultimi volti che si uniranno al roster e anche una delle nuove piste. Ovviamente Nintendo ha anche trovato il modo di rivenderci il pacchetto aggiuntivo con l'edizione fisica, di questo DLC, un'edizione fisica che però è fisica fino a un certo punto. Viene indicata come versione su scheda, ma per forza di cose si tratta di un download code, per chi è interessato questa versione uscirà il 6 ottobre. E mentre mi sarei aspettato un bel segmento dedicato all'NSO, al Game Boy Advance e al Nintendo 64, il servizio in abbonamento è stato protagonista solo con l'annuncio del vociferato F099, il nuovo Battle Royale basato sull'engine del primo mitico F0 su Super Nintendo. L'idea è molto carina e so già che tantissimi ci stanno smadonnando sopra. Per me si tratta di un'occasione un po' sprecata, ma delle delusioni vi parlerò in chiusura. Resta il fatto che trattandosi di un progetto ancorato al Nintendo Switch Online, temo che non solo non ne avremo mai un'edizione fisica, ma che inoltre il titolo prima o poi sparirà dalla circolazione come è successo per i suoi illustri predecessori. Passando al segmento terze parti, ci sono stati tutti i nomi che mi aspettavo di vedere, tranne Sega, anche se nessuno di questi si è presentato con i titoli che avevo ipotizzato. Square Enix ha presentato solo il nuovo saga Emerald Beyond, mentre nella versione giapponese del Direct c'è stato anche un breve inserto dedicato al nuovo Dragon Quest Monsters. Niente novità personacentriche per Atlus che però ha mostrato il nuovo titolo di Vanilla Wear. Gli stessi autori di Muramasa, Dragon's Crown, Odin Sphere e Thirteen Sentinels. Il loro stile è inconfondibile, anche se Unicorn Overlord sembra virare ancora di più verso il territorio degli RTS. Si tratta però di un titolo che io tengo d'occhio con molta attenzione. Ubisoft si è presentata solo con un gioco. Prince of Persia The Lost Crown, in uscita a gennaio, torna con un nuovo elettrizzante trailer. Se il reveal iniziale mi aveva lasciato parecchio interdetto, ora non vedo l'ora di provare questo ritorno alle origini della saga di Pop. Purtroppo però il rumor che voleva il ritorno di Beyond Good and Evil in una remaster pensata per celebrare i vent'anni dalla pubblicazione originale del titolo si è concretizzato in un nulla di fatto, almeno per ora. Che è stato però spazio per una riesumazione ancora più imprevedibile. Il remake grafico dei primi tre Tomb Raider. L'idea devo dire che mi fa sorridere parecchio e la possibilità di cambiare in tempo reale tra vecchio stile grafico e nuovo engine fa sempre la sua porca figura. Ma ora sono proprio curioso di sapere come i giocatori di oggi reagiranno di fronte a un gameplay così arcaico e macchinoso. Ci sarà sicuramente da divertirsi. Konami ha invece affidato a WayForward il remake di Contra, ma devo dire che Operation Galuga mi ha lasciato veramente interdetto. Lo stile grafico mi sembra proprio sbagliato, non saprei come definirlo altrimenti. Oltre che tecnicamente molto arretrato, tanto che all'inizio pensavo si trattasse di una produzione di Forever Entertainment. E credetemi, non è assolutamente un complimento. Inizio a pensare che nonostante sia uno studio molto talentuoso, quando si tratta di modernizzare i grandi classici con dei motori in 3D, quelli di WayForward non è che sanno proprio dove mettere le mani. Sarò felicissimo di essere smentito, ma per ora questo titolo per me è uno dei momenti più bassi di tutto il direct. Prima però di procedere vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Otoji Retro Games. Sapete tutti quanti che sono un appassionato di retro gaming e collezionismo e proprio per questo sono felice di collaborare nuovamente con Otoji Retro Games, uno dei migliori e-commerce in circolazione. E vi invito a dare un'occhiata al sito e ai suoi profili social perché vengono aggiornati in continuazione e ogni settimana troverete tante novità aggiunte al catalogo e anche prezzi strainteressanti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, dai giochi loose fino ai pezzi più rari e ricercati e se volete Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato e di permuta. Trovate tutti i link di Otoji in descrizione e mi raccomando, in caso, diteli che vi manda Poro. Ancora un grazie gigantesco a Domenico e Otoji per supportare il canale. E andiamo avanti. Ma passiamo a quelle che sono state le vere novità di questa presentazione. C'è da dire che Pioro è stato un vero cecchino, ancora una volta non ne ha sbagliata neanche una e ha saputo ridicolizzare tutti gli altri presunti leaker. Anzi, per fortuna che la vera bomba ce l'ha risparmiata, lasciandoci così un minimo di sorpresa per un direct altrimenti spoilerato nella sua interezza. Donkey Kong ritorna, ma in un remake, un altro, dove non è neanche il vero protagonista. Il 16 febbraio sarà il turno di Mario vs Donkey Kong, rifacimento dell'originale per GBA, quello che rimane comunque uno dei migliori capitoli dell'intera saga. Devo dire che prima di vedere il trailer ufficiale e la prospettiva di un potenziale annuncio non è che mi entusiasmasse più di tanto, ma dopo la presentazione mi è venuta voglia di riscoprire questo classico. Certo, non è né un nuovo platform di Mario né un nuovo gioco di Donkey Kong, ma un puzzle game. Ce lo facciamo bastare? Il remake dei due Another Code è una notizia che ho accolto con grande entusiasmo e sarebbe bello se Nintendo desse spazio anche ad altri titoli di Qing come ad esempio Hotel Dusk. Operazioni del genere, un po' come accadde per Famicom Detective Club, secondo me non vanno sottovalutate. In un mare di remake, porting e remaster, sono queste hidden gem a meritare sul serio una seconda occasione. E recuperatevi lo shorts di ieri per sapere uno dei tanti motivi per cui il primo Another Code è una vera perla. E sorpresa delle sorprese, in chiusura abbiamo avuto il remake di Paper Mario, il portale millemario, millenario, previsto per un generico 2024. Finalmente Nintendo si è svegliata e non solo si sta appoggiando al catalogo Gamecube, e questo 2023 ha visto degli illustri ritorni, ma inoltre si è decisa a riesumare la storia degli RPG di Mario, tirando fuori quello che è uno dei migliori capitoli di sempre, nonché uno dei più amati dai fan di vecchia data. A questo punto all'appello manca solo la serie di Mario e Luigi. Che dici Nintendo? Ce la facciamo? Comunque, rimane un annuncio epocale anche se un po' paraculo, ma di questo parleremo proprio in chiusura. Passiamo un attimo alle delusioni. Le vere delusioni per me sono state tre. La prima è la mancata presenza di un gioco di Donkey Kong vero e proprio. Nintendo sta spingendo tantissimo su DK, è uno dei protagonisti del film, l'espansione del parco giochi è incentrata su di lui, Mario Kart verrà presto invaso dai Kong, eppure la cosa più vicina a un sottitolo che abbiamo avuto è stata Mario vs Donkey Kong. Ma dateci un nuovo country, mannaggia la miseria. Finalmente poi si sono riaccesi i riflettori sulla serie di F-Zero, sparita da radar ormai da decenni. Ma veramente ci dobbiamo limitare solo a F-099? Perché non parlare di maximum velocity? Oppure shadow droppare la remaster di CGX? O assurdità totale? Perché non proporre un nuovo capitolo? Stesso discorso vale anche per Metroid Prime, un altro grande assente. Capisco il volersi tener caldo Prime 4 per il futuro, ma qui si continua ad andare avanti col contagocce. Dread è uscito ormai due anni fa e la remaster di Prime shadow droppata inizio anno purtroppo è stata solo un oasi nel deserto. C'è bisogno di più Metroid. Eppure subito. E quindi veniamo alla grande questione. Continuo a pensare si sia trattato di un Direct strapieno di roba interessante, ma che allo stesso tempo mette in evidenza come siamo entrati nel periodo finale del ciclo vitale di Switch. E anzi, siamo proprio in un limbo di transizione dove è chiaro che tutta l'attenzione di Nintendo è rivolta altrove. Dopo l'uscita di Tears of the Kingdom, tutti i grandi progetti sono spariti dalla circolazione. Di sicuro Nintendo sta lavorando a un nuovo Mario in 3D, a un nuovo Donkey Kong, a Metroid Prime 4 e a tanti altri progetti belli corposi, ma questi andranno a comporre la line-up di lancio e il primo anno di vita della prossima console, qualsiasi essa sia. Da qui a marzo dell'anno prossimo abbiamo sì tanti titoli degni di nota, ma si tratta unicamente di remaster e remake tirati fuori con furbizia per occupare spazio con nomi di richiamo, attraverso però dei prodotti che richiedono un impegno produttivo ben diverso da quello necessario per una nuova produzione a tutto tondo. C'è da dire però che storicamente questi periodi di mezzo sono sempre stati tra i più complessi da gestire, non solo da parte di Nintendo, e molto spesso le console uscenti si sono ritrovate in dei pantani dove le uscite improvvisamente venivano a mancare e all'utenza non rimaneva che aspettare l'arrivo del nuovo hardware. Con Switch la situazione mi sembra leggermente diversa e quantomeno da qui a marzo Nintendo ha garantito l'uscita di almeno uno o due titoli di richiamo ogni mese. Certo sono dei remake o progetti minori, ma ricordiamoci che stiamo scavallando la metà del settimo anno di commercializzazione della console e ancora dobbiamo giocare un nuovo Mario in 2D, Mario vs Donkey Kong, Mario RPG, Warioware, Another Code, Paper Mario e compagnia bella. Insomma io ci metterei la firma per avere un fine ciclo vitale del genere su ogni console, però allo stesso tempo dobbiamo accettare la realtà. Tra il 2022 e il 2023 Nintendo ha raggiunto il picco qualitativo su Switch e un periodo del genere non lo vivremo più su questa console, anzi proprio non lo vivremo più nel breve termine. Godiamoci gli ultimi fuochi d'artificio in attesa del prossimo spettacolo. Ma questo però c'era tutto per oggi, mi sarebbe piaciuto parlare anche dello state of play ma il tempo è veramente poco e quindi ve lo riassumerò semplicemente con questa frase, oh mio dio Final Fantasy VII Rebirth lo voglio. Ora però tocca a voi, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questo direct e quali sono stati gli annunci che più hanno catturato la vostra attenzione. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, per essere stati in tantissimi ieri sera in live e vi aspetto qua sotto nei commenti e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando fate i bravi, riposatevi dormendo F0 tranquilli ma soprattutto nerdate duro. Io sono il porodonche, Michele Direct, ciao. Ehi 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 fermo, se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Pepe Mario! Porca droga!